La mia passione per la scienza è sempre stata con me, mi ha accompagnato sempre. Io fin da piccola ero curiosa di tutto quello che riguardava la scienza e la tecnologia, e in particolare il mondo dei microbi, quindi l'infinitesimamente piccolo. Il mio lavoro è un lavoro molto emozionante, molto eccitante, perché lavoriamo sulla frontiera delle nuove scoperte, quindi quando funziona un esperimento o hai un risultato in attesa, questo ti fa vibrare dentro. Molti uomini sono sorpresi, ma a me piace sorprendere gli uomini, sia dal punto di vista intellettuale, ma sia anche mostrandogli che una donna italiana e una ricercatrice italiana è elegante e piacevole. La scienza è per persone dedicate, per persone determinate e per persone che hanno le caratteristiche e la creatività per essere scienziate. Se voi pensate di avere queste caratteristiche e siete convinte di voler intraprendere una strada in salita, fatelo perché vi garantisco che vi divertirete moltissimo. Grazie a tutti.